Ieri mattina nelle scalinate della chiesa di Bonaria si sono radunate tante donne per il flash mob, un'azione di protesta contro la violenza sulle donne. Antonello Lai. Oggi è il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per molte donne è il giorno del ricordo, il giorno della tristezza e delle cicatrici. Scalinate di Bonaria, Bonaria è un nome femminile, non a caso è stato scelto questo posto, importante per la città di Cagliari per rappresentare la giornata contro la violenza sulle donne. Una manifestazione che era dovuta. Era dovuta chiamare all'appello uomini e donne della società di Cagliari per venire qui a gridare no alla violenza, no alle donne ammazzate tutti i giorni che leggiamo sulla cronaca. Era un'idea di donne indipendenti, libere, di riunirci qua e manifestare e soprattutto sensibilizzare le coscienze che è una piega sociale, è un problema per tutti, è un problema di tutti e di tutte. Molto spesso c'è del disinteresse o della distrazione. Le persone non hanno partecipato in massa a queste manifestazioni, ma è un po' come succede quando si fa un'intervista. Un silenzio a volte è più eloquente di una risposta e anche un'assenza a volte può essere più eloquente di una presenza. Sono d'accordo con te, questo ci ha dato un messaggio, che ancora le persone hanno bisogno veramente di scuotere le coscienze. Non deve essere per forza un fatto accaduto a noi stessi. Noi o le persone che non hanno subito una violenza, devono essere di supporto a chi le ha subite, devono essere di sostegno. E questo ci fa capire che abbiamo tanto lavoro ancora da fare e dobbiamo partire dalla sensibilizzazione. Noi siamo qua e ci torneremo ancora a gridare e vedrai che piano piano riusciremo a coinvolgere più persone possibili.